Che 2017 si aspetta? Io mi aspetto un 2017 per quanto riguarda il Comune di Caviglia, intendendo per Comune il Comune Ente, un 2017 molto positivo. Noi, pensate, abbiamo attualmente in corso lavori per 2 milioni e mezzo di Euro di opere pubbliche, ne avvieremo altri 6 milioni di Euro di lavori. In particolare siamo concentrati sulla ristrutturazione di tutti i plessi scolastici, perché investire sulla scuola vuol dire davvero investire sul nostro futuro. E poi ancora quello che magari si nota di meno, ma su cui il Comune di Caviglia si è sempre contraddistinto è il sociale, perché in questo periodo c'è la necessità ogni anno di sostenere attivamente, concretamente, rifinanziando tutti i capitoli del sociale. E poi ancora la cultura, la scuola, insomma i settori sono molti, però mi aspetto un 2017 positivo da questo punto di vista. Quello che posso confermare è che la Giunta Comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale sarà presente dalla mattina alla sera con impegno, con dedizione, con passione, così come ha fatto per questi due anni e mezzo.